Eh ragazzoni, abbiamo mangiato una sera, poi il mio capo mi ha detto, che c'è? Se ne andiamo in coppa alla Francia andiamo a prendere un furgone, però devi guidare tu perché io non tengo le ore. Sì vabbò, andiamo a fermo e siamo andati al capo a rigirare un furgone in mezzo a stare in panna. Con una motrice, io guardo dorme, 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 dorme.